La saga di Diabolik ha fatto tappa al Grand Hotel International di Capoliveri. Sarà perché dalla splendida terrazza dell'albergo si vede benissimo il carcere di Portazzurro. Quale posizione migliore quindi per la splendida Eva Kant onde studiare il piano di fuga più efficace per il suo amato Diabolik, ormai da diversi mesi ospite del penitenziario longonese? Il sopralluogo di Eva è stato comunque disturbato dalla presenza di due agenti penitenziari che la tenevano d'occhio con evidente soddisfazione. La stessa soddisfazione che è stata espressa da Claudio della Lucia e dalla dottoressa Giuliana Perrini, nuovo comandante della guardia penitenziaria di Portazzurro. Entrambi hanno voluto sottolineare l'importanza di eventi come questo che legano il mondo del fumetto alla promozione dell'Elba. Siamo riusciti all'Elba a stravolgere il mito di Diabolik che una volta tanto non viene per rubare ma viene per portare qualcosa in termini di immagini, in termini di promozione e ci auguriamo in termini di presenze. Beh questa è un'iniziativa piccola fatta da alcuni privati che però va nella direzione dello storytelling e quindi di utilizzare storie per raccontare il territorio per cui è sicuramente la strada giusta. Poi la sfida ovviamente per tutte queste cose è come diffonderle e come renderle facili da conoscere per un pubblico ampio però sicuramente è la strada che seguiamo anche noi. Pertanto dopo Diabolik c'è in animo l'idea di attenzionare qualche altro personaggio dei fumetti, del cinema, non so, per poter proseguire su questa strada? Beh Diabolik è un personaggio, l'anno scorso sapete bene abbiamo lavorato molto su Napoleone, sicuramente stiamo guardando altre possibilità sia nel mondo dei fumetti che nel mondo del cinema. E Cosimo De Medici? Cosimo De Medici è un programma 2017-2018 su cui come avete visto all'ultimo convegno stiamo già lavorando. Allora commissario, Evagent si aggira nei dintorni, Diabolik è ancora al sicuro in cella però se ci scappa? Non c'è di che stare tranquilli proprio, siamo un po' preoccupati insomma, vabbè no a parte gli scherzi, veramente è una grande emozione per noi partecipare a questo evento a livello di sia personale perché io sono un'elettrice, anzi lo ero quando negli anni 70 c'era il fenomeno dei fumetti e quello dei fotoromanzi e di tutte le stranezze che mi sono capitate nella mia vita e questa sicuramente è una delle più significative, cioè il fatto di essere il comandante di Diabolik.